Vedo Sto giro no, vedo il cupolo a stossigo per una volta. Volete la ward? No, fotte sega Siamo sempre le ward No, se io vado direttamente a correre i succhi, è sincero Si non torna indietro e possa ingancare la mid Si, ma secondo te il nostro carri mo ci viene in mid a... Vabbè, tu intanto hai preso il ghiaccetto, no Aurora, vero? Babbo Donovitz! Si, mica, ragazzi, abbiamo Babbo Donovitz Eh, si, l'ho visto Sì, ma ragazzi, abbiamo i robottoni ciccioni in sta partita, cosa volete di più? Tanti auguri, Doni Donovitz Mamma mia, se lo pigliamo questo qua come lo sfondiamo, ragazzi È bello che non c'è... il glenera sei tu, Robili, vi è andato in mid Eh, lo so, lo so, ma io venivo qua a controllare Fatemi passare! No, non fate rumore perché sanno che siamo qua, sennò Già, io se ci muoviamo io e Rictor sanno da... Io mi metto a fare il taunt al centro Sta a vedere che a me mi arrivano tutti dall'altra parte, ragazzi E mi fanno la stessa cosa Dovrì che facciamo un fighting mid e basta Se abbiamo vinto, ok, se no Comunque loro non si vedono, eh Aspetta, fammi dare una controllata qua pure a me No, qua non c'è nessuno Ragazzi, questo... bisogna andare così No, aspetta, aspettate, 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 aspettate Ok Allora, ormai vai Andiamo in grand Ho dovuto fare io un colpo Non l'abbiamo in grand Non l'abbiamo Sono in base, cioè Monte tutto No, perché questo minio infame di merda guarda me Ha ha ha, fa' culo Guarda come se ne va in base alla tua robottana da quattro soldi La robottana La spalmatricio Guarda che c'hanno di jungle, quang, forse Quang, 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 non è comparso nell'elenco C'hanno ShinBi off Quang, quang Sì 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 è morto in giugna a me è andata meglio sto giro, guarda confronta prima, prima ho proprio pissato male va a prendere baff di giungli a pari baff di giungli tirami, tirami le cascate in testa che non mi fai un cazzo e ti mangi il mana, un violascio per me come prima, sentimi che ho un cuoricino sempre ogni volta che vado in maledio so per scoppiare ho fatto i campi a destra, vengo a sinistra così ti posso dare una mano ma vedo che te lo stai scoppiando male perché occhio che sta arrivando qualcuno mi piace tutti i campi da quattro ormai i loro Gideon a 5 da 6 io devo di credici mi piace Gideon, continua così ti c'hanno da PC la? Quang, molto male baffi del fiume effettivamente si, sto andando anch'io un altro vio rush, è tutto mio ragazzi, scusate, io ripeto, con crunch vado subito in rush del 5 non mi vedrete se proprio mi urlate nel 5 qualsiasi cosa incontriamo, lo facciamo il buff della giungla qua se l'ha fatto qualcuno, eh dove sto passando io ragazzi io ho bisogno poi di ricollare dal centro arrivo, vado a fare il verde e arrivo Roby anzi, vengo prima da te e poi vado a fare il verde dopo vai pure, vai pure, vai pure ora non è dietro di te è questa blocco pure sai che ti dico? lui se ne va, la pusho pure ok pesantemente riusciamogliela ti stai prendendo la sit? ok quanti minio? no, due ok ok tu a ye ye come sei messo? stai a fare col male, bestemmie stavo, stavo mutato stavo mutato hai bisogno dimmi che arriva, eh io sono farm 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 ma io c'ho la urti qua il nerba sciopio io ammasso c'hai uno dietro c'hai uno dietro arrivo eh io c'ho anche la ultima in te tu c'hai? io pure è vero eh, c'hanno lume, c'hanno lume, c'hanno lume c'hanno lume anzi mi viene a prendere se tagli da ore prime ti fai succulento, io taglio di lì oh, salio pure io c'ho scatto più ho mancato c'ho mancato male, ho mancato male io parlo di qua, ho mancato male scusate arrivo mid perché ho fatto la cannata di tirare l'uppercut come ulti e non per terza quindi non potevo fargli più la knockback fa niente oggi c'era andata di dad fa un culo per ora si fa arma ahahahah ma io non abbasciare col lato baff 47 del fiume qua c'è l'ultimo campo le war e regola ecco allora, eeeh mi sono da l'altra parte ma quanto sono subito ma quanto sono subito ma quanto sono subito donny vi dovrebbe arrivare anche cosa, ovvio quang quang, si mi sembra che questo quang questa shimmy sia veramente forte e qua mancano eh e vedi che a Gideon glielo fa vedi che con Gideon lo puoi prendere il buff con la cascata ye yeh non è vero che non puoi prendere lo puoi prendere si lo la stiff eeeh il discorso che tu gli puoi dare un hit ma se lo accedi con un colpo solo lo prendi il buff ragazzo no no senza senza passare senza passare il il muro di invisibilità si lo puoi prendere l'importante è che tu lo ammazzi con un colpo solo eeeh la cascata si esatto anche se lo stanno facendo gli altri sta arrivando mid eh si perchè questo vuole farmi la ultima instantator ma lui è una qua eh io ce l'ho io ce la mia eh proprio quello che si chi si l'ha Lui l'ha fatta sotto, io ero sopra di lui, prendeva solo te e non prendeva me, no ma... Eh, perché prendeva me ma gli tiravo dei pugni dei marori, non sembrava... Forse mi prendeva, no? Facciamo un danno anche te. Sì 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 sì, il danno ce l'hai. Cazzo vuoi, Quang, che sei senza mana. Quang, ti deleto, vai via. Poco 2. Quang, adesso lì tira una cascata sulla testa, lui non lo sa. Guardalo, guardalo, guardalo. Guarda qua che li facciute tuuuu. Mamma mia, così mi secco. Quanto muoio dopo. Come stanno, eh? Guarda come stanno vero. Eh io vengo, eh. Senza mana, senza niente. Però non era ulti, eh. Però arrivo con la cascata e sparro, eh. Eh, c'hanno il lume, c'hanno il lume, c'hanno il lume. Non ce l'hanno, però io. Eh no, perché andavano indietro? Non lo so. A noi te mancai da niente. Me ne vado miss. Scusate, c'è. Eh sì che c'era il lume, ye ye. Guardalo qua, sì che c'era il lume. Sì sì. C'era, c'era. Scusate, mi sono andato a prendere Quanga nella loro giungla. Così. Buono. Buono. Vado prendi anche il verde, vero che ci sono. E poi vengo mida, eh. Io c'ho di nuovo la ulti, eh. Vengo mida tra poco. Prendo il verde e vengo mida. Chiudo il verde, gli lascio i minion piccoli e posso dal due da sopra. Arrivando. Scusate. Eh, non lo prendiamo più. Aspetta però. Aspetta. Dai, 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 dai. Oh, oh, mi sono arrivati tutti. Mi sono arrivati tutti. Quanti. No, no, no. Bella. Bella roba. È arrivato solo sbarro. Bella roba. Ulti su ulti. Un nuovo attacco. Ogni tower. Destroito. Vendo ancora il verde, faccio ancora un rush di minion. Occhio che ti arriva Quang. Ti arriva Quang. Vieni qua, vieni verso di me. Il verde, il verde, il verde, il verde. Ok, comincio ad andare verso la base. Ci sono anch'io, eh. Guarda che lo sto melando io, eh. Sì, lo so. Mai sparro dietro, Roby. Per quello ho preso in tua mano. Loro sono tutti chiusi da Richter, gente varia, quindi li aspettiamo qua. E sono morti. Comunque io voglio provare a fare un mazzo di Gideon che le prime quattro carte, buono, Donny, invece di essere quattro tagli imprensibili da 6, voglio fare quattro motori scattanti da 6. Per usare, ragazzi. Se lo spanno, perché lì ci siete venuti dietro, avevi già fatto il lavoro della Madonna. Ah, lì dice di Giul. Sì, sì. Loro l'ha fatto loro. No. Non venuto, non venuto. Non venuto. Non venuto. Arriva così, lo lascio, ahimè. Buono, io c'ho la ulti, eh. Faccio il giro da dietro. Eh, ah, c'ha un lume, c'ha un lume, c'ha un lume, c'ha un lume, c'ha un lume qua. Oh, è sceso un Arbash qua, ovvio qua, eh. Sta venendo in contro. Oh, ci sta andando, ci sta andando io, eh. Stiamo andando a tutti. Eh, non vi più. Ok. Stanno in farm. Stanno mid. Ragazzi, risalgo un po' di farm e ne approfitto anche un po' di punti. Oh, Rictor, là. Arrivo su di te, Donny. Arrivo su di te, eh. Siamo arrivati tutti, Erron. E ci penso che Donny se un figo. 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 Nooo, guarda con quel cazzo di grab di me. C'è Gideon dietro, Rabi. Ok. C'è Gideon dietro, guardate. C'è Gideon dietro, guardate. Sì, 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 adesso lo prendiamo, lo prendiamo. Donny se un figo. Adesso con me scende è morto, eh. Bella spargo, eh. Oh, al centro, ragazzi. Al centro spargo, al centro spargo. Allora, posso farlo dietro, posso farlo dietro a Cimbi. Cioè, Cimbi, scusa, eh. Cimbi, scusa, eh. Cimbi, stai farlo. Ci siete? Ci sono già io, questa parte. Eh, ma quella, eh. Sì, sì. Eh, qua mi debba aiutiiiino. Arrivo io, arrivo io. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. No, vieni, vieni. No, vieni qua. Non li blocchi, ma la dammi, ha già fatto pochino. Allora, vieni qua. Invece, pure Narbash qua. Bene, sei Narbash e sei morto. Ha tol Yang Сeng. guardarmi cos'è questa roba qua? un Gideon no? ah no Gideon! 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 grande grande donne era morto? andiamo via volete raptorizzare scusate? io so senza mano eh ci sono io con tutto mano? vabbè non posso resistere! faccio 60 anni di danno adesso! cazzo me che faccio! io esplodo i raptor ah c'erano bonnie il carri chiacca noi fatevelo no vabbè devo fare il verde tranquillo espo un po' a farmi un po' ne approfitto parecchio arrivano mid, arrivo mid pure io occhio che vi arrivano a destra arrivo a sparro ragazzi da dietro la sto qui dentro io arrivo mid, bravo e io ce l'ho ulti e ce l'hai pure tu arriviamo anche a mid, occhio a sparro ragazzi che non la vediamo più ci arrivi? dai dai rete si 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 slovato eh no nooo non ci arrivavo eh ma l'ha presa anche n'arbash ma c'è sparro ti sbarro lì va ecco lì tutti ho preso oh shimbi shimbi su di me ci siamo ci siamo ci siamo per andar via nooo morta? si si slowata tutte cose pushing anche se siamo senza vita a pushare ragazzi pure io sto senza vita c'è Gideon mid che se mi pia mi stronca vado a sinistra vado a sinistra di pusharia per colle vado eh due sono rinati eh ok io sto dietro di te ahiaia non sto male andiamocene 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 vieno vabbè allora quello vabbè fatti pure l'altro guarda e se loro non mi cagano ragazzi la torra a sinistra la faccio eh se voi pushate l'altro lì oh che cazzo della gara non pushate più mid ragazzi voi si io non so ne ho più il buff più ma sono invisibile si sto io mid che ho usato una torra eh due guarda giù dai dai fallo con la ultimate Mardon fallo con la ultimate bravo bravo ah ragazzi quanto è bello sto gioco comunque mamma mia io già scendi dietro? no ho smesso ho fatto una carica occhio qua Beppe Quang Robby ma quanto è bello crunch ma quanto è bello il logo però anch'io quanto è bello e due e due esatto 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 e loro vengono avanti e loro vengono fuori senza male eh posso solo tirare questa e basta ammazza tutto ammazza tutto oh ammazziamo pure questa e si guarda che la prendo qua io slow tutte cose cos'è? dove vai? muovere su una parte senza male ti arriva a farlo ragazzi così si fa verde tutto quanto ahahahah 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 questo lo sarò più oltre che a me e io le collo sono senza male metto uno qua perché semmo nasce il baffiume dove non io faccio male adesso va tutto quello uguale tutti subito baff del fiume una bella mannaia gristote eccolo ahahahah io tra 20 giorni ce l'ho io ce l'ho già facciamo cose qui mi metto pure il teletrasferimento mo con questi si si da destra già la ultiamo ahiaia ok andiamo 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 and il livello ormai porco dio sono vita però sbatte sega pio pugni a cazzo io io vado a difendere sinistra voi pescate lì si 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 vai anch'io ricordi invadere una cazzo nooo quanto ho preso quanto sono morto sa che l'hai preso roba ah si adu can ah 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 rinasce il verde o tu io prendi lo tuo prendi lo tuo suggero si si se loro non è mai rinato non gliel'ho mai fatto rinascere prendi lo tuo suggero a me non serve più io ho finito la fase di che mi serve solo per il farm all'inizio ma con questi ma con questi manco non ho detto che il riferimento di vedi che livello sono e questo è quello che cercavo di fare la partita di prima di andare un livello sopra a tutti con il jungler con cancè praticamente è fatto guarda che c'è sparo qua in giungla da me parru svegliati e prima che siamo la torre al centro a pugni io ti fa ulti qua eh oh e minchia ah io non ce l'avevo pronta che coglione mi son lanciato e non avevo l'ulti ce l'avevo un secondo dopo sai te un secondo dopo però adesso ce l'ho di nuovo eh vai prima che arriva gli facciamo dio porco in gauge tipo così guarda qua come la prende nooo non lo so chiudere è che c'è io guarda guarda quanto l'ho lasciata guarda quanto l'ho lasciato quella la con la cascata guardate guarda guarda qua grande wow quella unico senza vita guarda la cascata aia 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 e puri io sto senza vita via no mamma mia quella sparro quella sparro com'a cosa ho messato L'ho lasciata a 10 HP A 10 HP ma poi è venuta davanti È venuta ma mi sono missato io la La cosa La cascata Bene, l'esperimento Adesso ho già messo il colpo dimensionale Però prima mi sembrava un po' troppo sparare The power grows Come siamo messi a punti noi? In sopra, avanti Noi 33 io, la chi ne ha di più Ne ha 27 Il nostro carry Tu ne avrei pensato di più No, tu Non ho guardato ma ne ho un in meno Oh di là Scimbi che fa male Però levo già L'uomo del danno Sì ma c'è l'ultimate Sì Andiamo a sinistra da sparro Il danno è crashato raga No, speriamo che non sia riusciato dal gioco Oh, 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 io mi sto vedo Arrivo Si è crashato dal gioco Eh no, eh no, eh no Io ti avevo detto andiamo su sparro Sapevo che tu ammondavi su quello di Vabbè Tanto te lo fai Arrivo pure io? Eh no, perché arrivo Eh sì, 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 sì Eh, eh, eh Dai che dai Che si rimane Oh, 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 oh Eh, dove spilippavi? Eh sì Si è cresciato dal gioco No è tornato È tornato Però si sta Si sta riconnettendo Quang da qua Quang dove sono io Si si arriviamo Poi dobbiamo pure un po' pushare le linee Oh guarda qua guarda qua Gideon Qua 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 giratevi qua Ho preso ho preso Eh ma io li giro da sopra E lo blocco qua davanti Non fai più niente Scudo divino Il nostro carry Ma se il carry che abbiamo Potremmo fare anche un orb prime Ma tipo Donny vengo io De pushare a sinistra Ave pure col gruppo No 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 Lui si fa Difende destra Ah no ma donny E ritorni Lascia perdere Non ho detto niente Ma devo Meno de pusha un po' di più Mamma mia il teletrasferimento È molto più lungo Del rotondo No del rotondo Del rotondo di Gideon Fai più lungo si Eh ma di brutto Mamma mia E quello si gioca Il teletrasferimento Anche su Gideon Di cattiveria Così proprio Intoccabile Ma non ce lo giocano tanto Arrivo Donny Arrivo Se vuoi prenderlo Prendiamo Lì ci sono C'è anche l'ulti carica Loro lume qua Chiudate un occhio di riguardo a me a sinistra per favore Perché io sto andando secco Eh narva Se può venire Sto arrivando qui Farò dietro di me Sparola Chiudiamo Ah no Ok Eh io c'ho ulti Già sto arrivando Narva c'è sinistra Sparola ho presa Oh arrivo Non arriva Narva Che arrivo pure io Oh mi ho preso Di questo Brahelli che è stato arrivando Da dietro Loro non lo sanno Come lì non dentro Ok 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 L'abbiamo duggiata Questa è due Io vado indietro Riktor che sono senza mano Eh Donnie Ridiriamo ridiriamo Sì sì Ce la fate? Penso di sì Riktor Tu ce la fai Donnie Vieni 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 Oh lume Oh ma è impressionante la lunghezza del blink Io vorrei farvi notare quanto è impressionante quanto parma sto cazzo di crunch Scusatemi Arrivo Vado in base e torno Cosa imbarazzante veramente Ma questa è fai bene C'ho due di giro quindi alla ultima Io ce l'ho Oh Presa Nooo Non ho fatto il tempo Oh qua ci rimane Gideon però Che è quella qua dietro Sottimo È morto è morto Un po' bene l'avevo l'occhio Allora finita Caccolina Quattro punti Barino Non so che C'ho mana per una sola spell Eeeh Io Ma qua la torre la facciamo Vieni via 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 Oh Mardok dietro Stai Che ti fa tutti e due Ah ok 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 buono È rimasto un mezzo di minio Mardok non ce l'ho mai più Guardalo Guardalo Da fermo Un mezzo di minio Carava Buono Non ce l'ha incastrato Non ce l'ha più muo Quattro morti Adesso mi sacrifico la torre di destra Eh sacrifico la torre di destra Quattro morti Quattro morti Quattro morti Quattro morti Quattro morti Ahia Quang Oh Quang è su Riktor Già Dai che lo ammazzamo Mardok Il nostro Mardok 12-1 Pure lui lo gioca bene il carry Bravo Bravo Ora se non vengono qua va giù eh S'arriva Gideon Uno colpo dimensionale La sprint La ult Cioè tutto quanto Perfetto Sono anche 709 eh Quindi se mi ingaggia lo stupro male anche Annalmente Che me ne vado ora Che me ne vado ora Che me ne vado ora Che me ne vado così Ciao Cibi non ti conviene venermi addosso ti faccio male Andiamo 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 Ancora in giro Questo scudo divino Andiamo Ho visto pure il nano plasma oh lì 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 quella la sinistra che se ne va marlo tenta la ultima ma niente e dopo andare in verde scusate no ha giocato bene marlo con una nuova salvata cazzo ma salvato nel mezzo agili e rimane male oh c'abbia dietro un sparro e da qua da qua da qua da qua da qua da qua eccola e vabbè non ce l'ha più non ce l'ha più l'arri c'ha l'ultima tacca ma la sinistra difendere oh lì 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 edru ci a solo metti a ver si e vieni dietro vieni dietro Niente da fare Nel cappavo te però Sì, sì, seria Buono, Marduk Oh, mi sono tutti insieme qui Eh, Marduk, io lo sifo a tutti Eh, sì Buono, Marduk Buono, Marduk Buono, Marduk Oh, guarda lì Sprint di champagne, scudo di vino Sì, non muore pure quella Sì, sì Ci sto arrivando pure io Sto dietro a Marduk Eh, io ci sto andando Ci guarda io Ragazzi No, che fa la torre quella Guarda che sono i Minions Qui la va a chiudere E ci arrivo pure io Eh, ma sta rigollando Guarda Giuseppe Crunch che va portato No, invece no Non lo ricorda Non lo ha preso Non si Si, si, lo voglio Io vi levo tutta la giungala Che sono figlia di puttane Via, via Tutta la giungala Ma se volete fare l'Orb Prime Ma gli esplodiamo l'Orb Prime Eh, sì Eh Beh, quindi vabbè Vabbè, ma dopo Non sarà un tiro a destra Se arriviamo alla tutela solo qua Eh, ma che errore La torre va a gestione Ma non l'abbiamo in Minions Guarda Giuseppe 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 No, no Cazzo Imi torno insieme Vediamo Ammazzo tutti ragazzi Tutti quanti Dovete vedere come è stato Gideon No, ho spiegato la ultima Non lo puoi spiegare Oh, ragazzi Sì, Gideon Gideon era su Che faceva la ultimate Marduk li sparava, no? Come è caduto dalla ultima Se è rimasta a 10 HP Ho fatto la cascata in aria Prima che scendesse Gli è arrivato sulla testa Un attimo dopo È stato meraviglioso Muori, cimbi Guarda, tira la ulti Molto bella Se non c'è un coglione di offlaner che mi fotte la giungla Bella così Bella raga 10-06 Ciao Ciao Grazie a tutti.